Ciao, oggi facciamo le copette a sugo, le copette a sugo, ora per prima cosa mettiamo il latte, è l'ultato, faccio il cuore altro. a 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 basilico e adesso continuate a fare tutto e adesso continuate a fare tutto e guardiamo che non si parla con la bocca aperta a 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